Una firma che suggella un patto ormai consolidato per dare a Chioggia e alle sue spiagge un motivo in più per entrare nelle preferenze degli amanti del mare, anche a quelli che per muoversi usano stampelle o carrozzine. In questa direzione va infatti il rinnovato protocollo d'intesa per spiagge sempre più a misura di disabile, sottoscritto dall'assessorato ai servizi sociali del comune, dalle associazioni dei gestori degli stabilimenti balneari e dalla UILM di Chioggia. Come attività sociale siamo un comune che molto investe sui sociali con bilancio complessivo che va intorno ai 6 milioni di euro, anche qualcosa in più. In particolar modo proprio con i nostri concittadini diversamente abili abbiamo direi un occhio non di riguardo ma direi che proprio rispondiamo a un legittimo dovere comunque. Il protocollo garantirà quest'anno l'acquisto di altre 20 speciali carrozzine in aggiunta alle 30 prese nel 2008 con cui i disabili possono non solo concedersi lunghe passeggiate sulla battigia ma anche l'emozione da qualcuno probabilmente mai provata di un bagno fra le onde. Insieme a questo si prevede il potenziamento delle corsie di eccesso alla spiaggia e al mare e della segnaletica relativa a percorsi e servizi accessibili ai disabili. Un impegno sulla strada di una sempre più concreta attenzione ai bisogni dei disabili che ha trovato e continua a trovare tutti d'accordo negli oltre 50 stabilimenti balneari del litorale. Siamo di dotare gli strumenti balneari questo prossimo anno di tutta una serie di altre iniziative che siano attenti al programma che è molto più ampio di chi soffresce della spiaggia. Noi ci aspettiamo questo, i giochi, i percorsi, tutta una serie di cose che qualificano la nostra chioggia. Speriamo che questo sia di traino anche per altre realtà. Diciamo che la spesa di chioggia è aperta a tutti, non ci sono barriere e siamo riusciti con soddisfazione a raccogliere i primi frutti e quest'anno continuiamo in questo e speriamo sempre di più di migliorarci.